Le stelle sono lì al loro posto da millenni. Alcune, a gruppi, formano figure che si vedevano già nell'antichità. Eppure la loro luce impiega del tempo per percorrere le distanze che ci separano dalle stelle. In alcuni casi, un tempo lunghissimo. E se quello che vediamo fosse, in realtà, solo un segno della loro vita trascorsa? E se non fossero più là già da anni? O addirittura da millenni? La luce nel vuoto viaggia a una velocità di 299.792.458 metri al secondo, un valore costante che i fisici chiamano C. Corrisponde a quasi 300.000 km al secondo, più di un miliardo di chilometri all'ora. Se potessimo cavalcare un raggio di luce, potremmo fare il giro del mondo ben 7 volte in un solo secondo. Le distanze a cui siamo abituati, metri, chilometri o anche migliaia di chilometri, sono troppo piccole perché possiamo accorgerci che la luce impiega del tempo per correrle. Abbiamo l'impressione che tutto accada proprio nel momento in cui lo vediamo. Pensiamo che le lampadine si accendano nell'istante in cui vediamo la loro luce. E quando chiamiamo qualcuno al cellulare, il segnale viaggia dal telefono a un'antenna, e da qui a un satellite, e poi di nuovo a un'antenna sulla Terra. Ma non ce ne rendiamo conto. Ci sembra tutto praticamente istantaneo. Su scala astronomica, però, è un'altra cosa. Osservate la Luna. Servono 1,3 secondi prima che la sua luce riflessa arrivi a noi sulla Terra. E quando guardiamo il Sole tramontare, Lui è già oltre l'orizzonte da ben 8 minuti. Andando molto più lontano, poi, le stelle che si trovano a 9.500 miliardi di chilometri ci appaiono come erano esattamente un anno fa. E per questo chiamiamo questa distanza anno-luce. L'intera volta celeste, quindi, è un'immagine del passato. Più andiamo lontano nello spazio, più stiamo andando indietro nel tempo. Questo non significa che tutto ciò che è lontano sia per forza più vecchio. Semplicemente la sua immagine, così come ci si presenta oggi, è passata. È proprio grazie a questo che possiamo ricostruire la storia dell'universo. E siamo arrivati lontano. Siamo riusciti a fotografare l'immagine dell'universo subito dopo la sua nascita, 13,7 miliardi di anni fa. È la cosa più lontana che abbiamo potuto vedere. Un bagliore emesso dopo la formazione dei primi atomi, 380.000 anni dopo il Big Bang. Una radiazione che permea ancora oggi tutto lo spazio e che chiamiamo radiazione cosmica di fondo. Più lontano di così, non potremo vedere nulla, neanche con gli strumenti più potenti, perché la luce che si trova oltre questa distanza non ha ancora fatto in tempo a raggiungerci. È troppo lontana. La velocità della luce, però, non è solo finita. È anche il limite di tutte le velocità possibili. Se provassimo a superare questa barriera, incontreremmo una resistenza sempre maggiore man mano che la nostra velocità aumenta, come se qualcosa ci impedisse di accelerare ancora. Diventeremo in qualche modo sempre più pesanti e il bisogno di energia per aumentare la nostra velocità diverrebbe infinito. È quello che accade nei grandi acceleratori, dove le particelle raggiungono velocità pari a oltre il 99% di C. E così la loro energia si trasforma in massa. È previsto dalla famosa equazione di Einstein, E uguale mc alla seconda. I fisici sfruttano questa trasformazione facendo scontrare le particelle a energie enormi. Lo scopo è indagare a fondo la struttura dell'universo e i suoi ingredienti primi, le particelle elementari e quelle forze che all'inizio di tutto hanno portato alla nascita dello spazio e del tempo.